Piano della mobilità per le festività natalizie sabato prossimo 24 dicembre si potrà viaggiare per tutto il giorno sull'intera rete senza dover pagare il biglietto. Ricordiamo che in occasione della vigilia bus tram e metropolitane saranno attive sino alle 21. Dalle 23.30 scenderanno in strada i bus notturni. A Natale servizio attivo in due diverse fasce orarie al mattino dalle 8.30 alle 13 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16.30 alle 21. Regolari le linee bus notturne ovvero quelle contrassegnate dalla lettera N. Nel giorno di Santo Stefano invece normale servizio festivo. Infine nella notte dell'ultimo dell'anno le linee del metro faranno gli straordinari e saranno attive sino alle 2.30 di notte.